Un caro saluto a tutti gli amanti dello sport e in particolare della palla canestro Sono Nicolo Crespi, qui con me c'è Diego Terenzi Ciao Nicolo, ciao a tutti Guardia delle Naroc Knights Siamo pronti per questa intervista un po' nel tuo personaggio e nella tua persona Allora, come prima domanda Diego, è un po' una domanda d'attualità Non è un momento forse brillantissimo per la squadra, che cosa manca? E allora, è difficile trovare una spiegazione a questo momento non bello della squadra Sicuramente ci sarebbero tante cose da dire Non è un momento facile, sicuramente abbiamo, a mio parere, anche accusato un po' la Supercoppa A livello fisico, a fare così tante partite in così poco tempo Ci ha, a mio parere, anche abbastanza accusato a livello fisico E quindi di conseguenza poi ritrovarsi in così poco tempo a iniziare il campionato non è semplice Poi sicuramente anche ognuno di noi è difficile dire cosa non va in un gruppo Ognuno secondo me si dovrebbe fare un parere personale e pensare cosa potrebbe fare per migliorare Sicuramente per dare di più alla squadra Quindi può essere questo, poi non lo so, noi comunque ci alleniamo sempre in modo molto intenso Quindi vedremo, dai, nel senso, sarà un momento down però si sente che la società e il pubblico ci stanno accanto Domanda interessante questa, dietro le quinte l'abbiamo già un po' studiata e capita Vediamo se, diciamo, ricordarci tutto Tre pregi e tre difetti di Terezi Allora, pregi sicuramente generosità Poi, beh, simpatia perché vive appunto una persona simpatica e... Ma abbastanza socievole, dai Ok, ok, c'è stata Tre difetti Tre difetti Troppo buono Troppo buono Che questo è un difetto poi è un po' pigro e abbastanza testato Un po' pigro, sì Sì, per certi aspetti sì E, ascolta Diego, come nasce questa passione per questo sport? Magari un ricordo che ti lega particolarmente da quando eri piccolo, non so Allora, la passione, diciamo che a me con la pallacanestro mi ci hanno proprio fatto nascere Perché ho avuto mio papà e i miei zii che hanno sempre giocato a pallacanestro E anche a livelli abbastanza alti A cosa di famiglia Esatto, quindi è una questione familiare Poi comunque io ho iniziato prestissimo, se non sbaglio, a quattro anni, quattro anni e mezzo Quindi per me è sempre stato lo sport principale Non ho mai avuto anche l'occasione di provare altri sport Perché dal momento in cui ho provato la pallacanestro è sempre stato quello Poi negli anni ho avuto tanti bei ricordi Comunque le prime allenamenti La prima partita La prima divisa Il primo regalo di Natale Quale è stata? Il primo regalo mi ricordo è stata la maglia di Kobe Bryant Che tra l'altro è il mio idolo E poi ovviamente la parada basket Allora, Diego, questa è la tua seconda stagione qui a Legnano Qual è il punto forte dell'ambiente legnanese? Ma sicuramente la società, i tifosi, il gruppo che si è creato sia dall'anno scorso Che quest'anno soprattutto Col fatto che abbiamo, la società ha avuto l'occasione di riconfermare quattro giocatori Mi ha compreso Pioggiurne e altri quattro Che caratterialmente si sposavano perfettamente con noi dell'anno scorso Questo sicuramente è stato il punto forte Poi ovviamente il pubblico che qua è super Io penso che nella mia piccola carriera E aver avuto così tanta gente che ci sta vicino Anche nei momenti non belli come questo Non è mai capitato Quindi ti dico gruppo, società e ambiente Quello prima di tutto Siamo arrivati alla conclusione di questa intervista con Diego E la mia ultima domanda è Domanda un po' strana, un po' particolare Non scontata, non facile secondo me In questo sport, anzi in generale possiamo dire Poi particolarmente nel basket Secondo te è importante avere una grande forza psicologica mentale Magari nei momenti di down, nei momenti negativi della partita Anche magari dall'animale così Però riesci tramite la menta ad andare avanti Oppure basta un grande fisico Tanti muscoli diciamo per rendere meglio Qual è magari? Ma allora, diciamo che nella palacanestro di oggi La parte fisica è abbastanza importante C'è da dire che comunque guardando anche la palacanestro NBA La parte fisica è sicuramente la cosa che salta più all'occhio Però sicuramente la parte mentale Fa sicuramente una gran parte Forse anche più di quella fisica Io comunque voglio essere onesto Non sono mai stato uno che a livello mentale è stato giocatore eccellente Però negli anni ci sto lavorando E piano piano questa cosa la sto un po' migliorando E quindi ti dico secondo me la parte mentale Perché comunque poi la palacanestro è uno sport che comunque ti porta tanto a stress Molto psicologico Molto psicologico Quindi tu devi essere bravo a gestire questi momenti E per poi uscire nel modo migliore Allora siamo arrivati veramente ai titoli di coda di questo film brevemente Vorrei dire Veramente Grazie perché è stato molto piacevole Grazie a te anche per me Ci vediamo domenica Ci vediamo domenica al palazzetto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti